Ciao a tutti! Come nasce questa comparativa fra l'FL Sun S1 e la Prusa MK4? In realtà non intendevo sfidare sua maestà, Prusa, sul fronte della qualità. Il presupposto era ben diverso. Partendo dalle nuove impostazioni standard dell'FL Sun Slicer, ho provato, sul consiglio di vari utenti, ad abbassare la velocità della ventola turbofan al 50% per ridurre sensibilmente il rumore durante la stampa. Fatto questo ho voluto verificare che la qualità non calasse, in particolare su quelle caratteristiche che richiedono molto raffreddamento, come ad esempio le sporgenze, gli overhangs, nonché i ponti. Quindi ho stampato questo modello che è esplicitamente pensato per misurare le sporgenze. Ho visto che sul fronte sporgenze se la cavava più che bene, mentre alcuni particolari sui vari dettagli non mi piacevano. Allora ho pensato, stampiamone un altro con la Prusa MK4, che a qualità sicuramente non è deficitaria, e vediamo la differenza. Con mia enorme sorpresa, vi dico subito che la qualità delle due stampanti è assolutamente paragonabile, con un vantaggio grande a favore di FL Sun sul fronte velocità. Perché FL Sun è riuscita a stampare questo oggetto in 55 minuti, mentre la Prusa MK4 ci ha messo un'ora e 38 minuti. Andiamo a vedere che configurazione ho utilizzato sull'una e l'altra stampante. Per tutte e due ho cercato di rimanere il più possibile vicino ad una configurazione standard. Quindi ho usato ad esempio FL Sun Slicer con impostazioni standard 02 PLA FL Sun S1, per quanto riguarda ovviamente la FL Sun S1. Sulla Prusa ho stampato con Prusa Slicer A02 Structural, perché la differenza con lo 02 Speed era veramente poco, intorno ai 5 minuti, e non giustificava una perdita di qualità. Abbiamo poi un ugello standard da 04 sulla FL Sun, mentre sulla Prusa è montato un ugello da 06. Questo perché lo avevo montato precedentemente, non mi sembrava il caso di sostituirlo solamente per fare questo test. Quindi si può dire che Prusa da un lato paga qualcosa in termini di qualità a causa dell'uggello più grande di quello standard. Dall'altro però questo è ancora più mortificante per la velocità della Prusa, che sicuramente risente in positivo dell'adozione dell'uggello 06. Quindi traete voi le vostre conclusioni. Per il resto la configurazione delle due stampanti è assolutamente standard. Come se la sono cavata le due stampanti? Vi ho anticipato che a livello qualitativo se la battono, con un piccolo vantaggio a favore di Prusa a livello estetico, e un piccolo vantaggio a favore di FL Sun a livello strutturale. I due modelli stampati sono molto simili. Differenza di qualità a vantaggio dell'uno o dell'altro a seconda dei casi, come vedremo adesso. Innanzitutto vi faccio vedere l'unico vero difetto che mostra l'S1 rispetto alla Prusa e che, devo dire, pesa molto. Per tutto il resto, ribadisco, la S1 è uguale, se non migliore, alla MK4, ma questo ghosting che potete vedere sulla scritta 3D Printer Test è veramente evidente, quasi assolutamente invisibile sulla MK4. Questo è un qualcosa che dà molto fastidio, perché chiaramente è un qualcosa che affligge le pareti esterne e probabilmente darà molto fastidio a tutti gli utenti in fase di stampa. Passiamo ora a vedere i singoli elementi. Le scritte sono praticamente illegibili su ambe due, quindi bocciate tutte e due. Non so se qualche stampante è in grado di stamparle in maniera leggibile, con layer a 0.2. Va ricordato che la Prusa MK4 in questo frangente potrebbe pagare l'uggello da 0.6, ma comunque bocciate tutte e due. Emergono poi differenze legate all'architettura diversa delle due stampanti. Come sappiamo, le delta realizzano meglio le forme tonde. Le stampanti cartesiane o Core XY sono migliori sulle forme rettangolari. Infatti, nella prova dei buchi, sono migliori quelli della FL Sun S1 per quanto riguarda quelli circolari, mentre quelli rettangolari sono meglio definiti e più spigolosi sulla Prusa MK4. I due cilindri sono buoni in entrambi i casi. Parliamo ora del bridging, che è in questo caso a favore di FL Sun. I ponti sono più pieni. Sulla Prusa c'è una strana sottoestrusione all'estremità del ponte. Sembra che non venga completato il percorso di deposizione del filamento fino alla fine del ponte. Il risultato è un ponte che ha una superficie che sembra incompleta e probabilmente paga anche qualcosa in termini di rigidità strutturale. Inoltre, i ponti di FL Sun hanno una sensazione di essere più tesi. Ricordiamo che su FL Sun ho usato la ventola al 50% e questo incide negativamente sulla stampa dei ponti. Quindi è rimarchevole il fatto che abbia realizzato così bene i ponti seppure la ventola fosse al 50%. A differenza di Prusa la testa del ponte sulla S1 è leggermente sporgente leggermente troppo ricca ma tutto sommato essendo una parte strutturale si potrebbe anche dire meglio troppo che poco. Passiamo a vedere il test dello stringing superato brillantemente da ambe due. su Prusa su Prusa a destra vediamo che c'è appena appena dello stringing ma niente di che. Incredibilmente sulla FL Sun lo stringing è completamente assente e ricordo sempre che siamo con ventola al 50% quindi prova dello stringing nettamente a favore di FL Sun è veramente completamente assente lo stringing sulla forma dei pilastrini avrei da ridire in entari ambe i casi sono mal realizzati non hanno una sezione costante e tutte e due mostrano questo difetto infine l'overhang la sporgenza che è il test principale di questo benchmark come vedete se la cava meglio FL Sun S1 nonostante vi ricordo la ventola sia al 50% della sua velocità il che in questo caso incide tantissimo riusciamo a stampare fino a 80 gradi in entrambe i casi in entrambe i casi con uno sfaldamento della superficie inferiore ma FL Sun stampa bene fino a 70 gradi non ha la minima incertezza mentre su prusa dai 65 70 gradi comincia a decadere fortemente la tenuta della forma quantomeno per quanto riguarda la faccia inferiore del pezzo quindi sicuramente anche questo round se la giudica FL Sun proviamo a trarre delle conclusioni allora al di là dell'obvietà della velocità di stampa nettamente a favore della FL Sun S1 ma su questo non aveva nessuno dubbi spicca in questa comparativa il difetto di ghosting della S1 qualcosa che probabilmente potrà essere risolto via software o anche semplicemente a livello di configurazione da parte dei singoli utenti questo questo però è un netto punto a favore di Prusa e invece nettamente a favore di FL Sun è il sistema di raffreddamento che persino al 50% consente ponti perfettamente rettilinei senza sbavature e soprattutto sporgenze fino all'80% di pendenza con qualche difetto ma che comunque terrebbero a livello strutturale ecco interessante il confronto a livello strutturale perché ambedue le stampanti portano a casa il risultato e se parliamo di parti funzionali dove l'estetica è secondaria rispetto alla funzione è molto importante che queste parti abbiano la giusta rigidità e che la stampa non fallisca per qualche motivo in questo senso ci troviamo di fronte a due stampanti molto affidabili che portano a casa il risultato questo un po' a sfatare i miti per cui la qualità della Prusa è inarrivabile la qualità sulla FL Sun S1 viene ottenuta a discapito della velocità o meglio il viceversa la velocità viene ottenuta a discapito della qualità per cui si dice che la S1 non è in grado di stampare bene vi smentisco la S1 stampa benissimo e ha sicuramente un enorme margine di miglioramento in particolare sul fronte software visto che l'hardware è ben dimensionato per prestazioni nettamente superiori a quelle attuali vi saluto ciao a tutti e